partenza della via i sette nipoti sono mesi che non arrampico sono di un rigido da paura ok si va sul pezzo più aperto partenza del secondo tiro partenza della via i sette nipoti 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 non è banale è quest'ultimo qui dovrebbe essere terzo arrivo a raggiungere la beata gioventù sto riprendendo tauro sto guardando se sarà possibile scendere più giù non vedo niente perché questa è la prima sosta qui ci sono le maniglie si fa secondo stiro adesso che un impegno attivo infatti solo fantonella per prima è tutto storto è tutto questo quello qua è l'ultimo penso è l'ultimo è l'ultimo penso 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 è il momento del riposo è di bere un po' di acqua di bere un po' di acqua calda della borraccia.